Dei recipienti pieni di cibi, tabacco e bevande ad uso dei defunti. Una specie di cestina da viaggio per l'albilà. Occasione d'oro per quel miscredente dello zio Cicerone. E così tutte le volte la solita storia. Cialcuno è arrivato prima di noi. Tu hai paura? Guarda quanta grazia di Dio.